Tra Romagna mia e cantata dai fans e Learn to Fly, la canzone di apertura, quella di Rocky Nell 1000 che ha mosso i Foo Fighters fino a Cesena. Naturalmente soddisfazione da parte di tutti per questo straordinario concerto evento. Sono strafelice che il sogno dei mille si sia avverato, scrive su Facebook in giornata Marco Sabiu. È stata una delle esperienze più emozionanti della mia carriera grazie a tutti voi che c'eravate, ma il direttore d'orchestra che ha mosso il grande spettacolo del Parco dell'Ipotromo di Cesena, che poi ha creato questo super evento visto da oltre 26 milioni di persone su YouTube. Il video che ha creato l'evento lascia un po' di amarezza. Ma lasciatemelo dire, scrive Marco, l'aver fatto pagare il prezzo pieno, 65 euro più 3 euro di prelazione in mille, è stata una caduta di stile che non mi aspettavo. Peccato, era quasi tutto perfetto. Vi abbraccio tutti, a presto Marco Sabiu. Il concerto c'è stato, tutti sono contenti e certo con 68 euro in più tutti erano ancora più contenti.